Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Keyland Stellar GTX, uno scarpone d'alpinismo con una lacciatura molto particolare che mi è piaciuta sì, mi è piaciuta no, ve lo dirò alla fine, ma di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come solito parlando del peso. Questo scarpone d'alpinismo taglia 42, pesa 690 grammi, nel mio solito 47, pesa poco sopra gli 800. È un peso normale, nella norma, tanti altri scarponi dello stesso numero pesano qualche grammo in più, qualche grammo in meno, quindi siamo nella norma, nulla di eccezionale. Iniziamo come solito a vedere questi scarponi dalla suola. Qua troviamo una suola inedita di Vibram, sviluppata apposta per questa Stellar, infatti la suola si chiama Vibram Stellar, ed è una sola che mi ha decisamente convinto, soprattutto questa costruzione a nido d'ape, da modo sia al fango ma soprattutto alla neve di andare via, liberarsi molto velocemente. Questo scarpone l'ho utilizzato parecchio su neve e vi assicuro che non si creano zoccoli, la neve non rimane e soprattutto il grip è veramente buono. Troviamo nella parte anteriore la cosiddetta climbing zone, dove noi possiamo andare a spingere di punta nel momento in cui stiamo un pochino arrampicando e in generale davvero questa suola mi è piaciuta molto. Complice il fatto che poi, essendo sempre una Vibram, proprio la mescola in sé, proprio il grip in sé della mescola è veramente performante. Arriviamo dunque a parlare dell'intersuola. Allora, un'intersuola abbastanza basso, a doppia densità, che comunque mi ha convinto. Io ho utilizzato questo scarpone su lunghe camminate, davvero lunghe, con anche 10 ore di scarpone ai piedi e non mi ha dato nessun problema. Avendo l'intersuola rigido, comunque tende un pochino a stancare il piede, ma quello è abbastanza normale. In generale comunque la camminabilità di questo scarpone è veramente buona. Come vi anticipavo, l'intersuola è rigido, quindi questo scarpone, complice anche il fatto dell'inserto in TPU posto nella parte posteriore, va bene per dei ramponi semi-automatici o universali. Arriviamo poi a parlare di tutta la parte superiore, che è quella che più incuriosisce e più mi è piaciuta di questi Stellar, partendo dal puntale. Qua troviamo un mega fascione in gomma, che davvero è super alto, molto protettivo. Con questo scarpone potrete veramente prendere a calci qualsiasi roccia e non sentirete nulla. Potete strusciare contro qualsiasi roccia sulla parte laterale dello scarpone e non sentirete nulla. E nonostante ciò, la gomma è molto durevole. Io posso farvi vedere questo scarpone utilizzato non so per quante uscite, davvero ci ho passato la dozzina di uscite e non ha nessun graffio, quindi questo fascione in gomma mi ha davvero tanto convinto. E anche tutta la parte di Tomaya, che poi va fino al collo, realizzata a microfibra, sinceramente mi ha convinto davvero tanto. E' uno scarpone non tanto traspirante, nel senso che non lo utilizzerei mai a quote basse, perché in quel caso lì il piede dentro studerebbe veramente tanto. E' uno scarpone che utilizzerei per questa sua termicità ad alta quota, quindi magari facendo qualche 4000 estivo, abbassando la quota nel periodo invernale e poi naturalmente non è uno scarpone pensato per alpinismo invernale, perché la termicità non glielo permette. Membrana in Gore-Tex che svolge un eccellente lavoro, però qui non avevamo dubbi perché il Gore-Tex è sempre il Gore-Tex. Arriviamo però a parlare anche della zona posteriore del nostro tallone. Tallone naturalmente strutturato, un tallone molto rigido, che però sinceramente mi ha lasciato molto soddisfatto perché va pian piano che si sale a diventare sempre più morbido e complice anche il tipo di allacciatura, favorisce tanto la camminabilità. Questo tallone naturalmente non ci dà modo di prendere storte, è un tipo di scarpone che ci terrà sempre ferma la caviglia, ma questo classico di tutti gli scarponi d'alpinismo. Ma l'aspetto che più mi ha convinto della parte superiore è l'allacciatura. Qua troviamo un'allacciatura davvero particolare, non classica, perché la linguetta esiste o non esiste, nel senso è attaccata alla parte interna di collare del piede. Quindi questo, nel momento in cui andiamo a stringere tutta la parte dell'allacciatura, ci dà una stretta, una sicurezza davvero eccezionale. Complice anche la tecnologia ALS di Keyland. Vi assicuro che una slacciatura così precisa non l'ho mai trovata. Ma non solo, perché tutta la parte superiore, non essendo eccessivamente rigida, aiuta tantissimo la camminabilità, come vi dicevo. E quindi questo scarpone, anche per trekking veramente lunghi, non fa stancare la nostra caviglia. In generale poi l'imbottitura è veramente spessa, è un'imbottitura super performante, è un'imbottitura che tiene anche abbastanza caldo, soprattutto nella parte superiore, quindi promossa. Arrivo dunque a parlarvi dell'allacciatura, visto che ne avevamo accennato già prima. Qui troviamo classici lacci, con una struttura a rombo molto classica. Quello che mi piace sempre sui scarponi d'alpinismo è l'inserto autobloccante nella parte inferiore, così che possiamo noi andare ad allacciare lo scarpone con due persone differenti dai lacci. Quindi anche il laccio, poi io tendo sempre a stringere tantissimo i miei scarponi, e non si è rotto, non si è spezzato, quindi ha fatto anche lui molto bene. Infine parliamo della soletta interna, questa è estraibile, quindi volendo possiamo andare a cambiarla, ma io in generale mi sono trovato bene con questa, quindi non penso che l'andrei a cambiare. Perciò arriviamo alle conclusioni per questi Keyland Stellar GTX. Ve li consiglio? Sì. Sì, innanzitutto per il prezzo, perché comunque vengono venduti a 200€, e secondo me è un prezzo molto consono per questo tipo di calzatura, anzi lo ritengo anche forse un felino troppo basso, nel senso che potrebbero costare di più e andrebbero comunque bene. Mi sono piaciuto tantissimo i materiali, davvero i materiali di questi Keyland, è uno di quegli scarponi che comprate oggi e vi dura tranquillamente 7-8 anni, poi naturalmente dipende anche come lo mantenete, come lo curate, però i materiali sono fatti veramente molto molto bene. Mi è piaciuta molto la calzabilità, la camminabilità, che dire, è davvero uno scarpone... È uno di quegli scarponi che quando li comprate, capite di aver fatto l'affare giusto, capite che sì avete speso magari 200€, ma che li avete spesi bene, che sarete soddisfatti del vostro acquisto ogni volta che lo andrete a calzare. Detto ciò ragazzi, quindi nella speranza di essere stato il zero interesse estivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!